In due anni e mezzo dalla giunta Marsilio nessuna programmazione sul ciclo dell'acqua. Su 341 milioni di euro governativi utilizzati dalla regione, zero fondi sono stati invece utilizzati per il sistema idrico. Punta così l'indice contro il presidente della regione e il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Silvio Paolucci, parlando di una carenza idrica quasi senza precedenti. Perché hanno rimodulato a vario titolo e in più occasioni ben 341 milioni di euro tra la rimodulazione del masterplan e l'anticipo delle risorse, i 123 milioni di euro del cosiddetto decreto Carfagna. Su 341 milioni di euro non vi è alcuna traccia di risorse per il sistema idrico integrato e in particolar modo per le condutture che hanno bisogno di numerosissimi investimenti. Chiediamo da subito che la regione coordini tavoli e faccia proposte per e in direzione di risolvere il tema del sistema idrico integrato. Può farlo, è chiaro che i risultati li avremo a distanza di qualche mese, come è stato quando noi, vecchia giunta di centro-sinistra, investimo sui depuratori e oggi i risultati ci danno ragione, bisogna farlo con urgenza. Tra l'altro nel precedente masterplan vi erano delle risorse e delle progettazioni che non hanno neanche portato avanti e qui è l'ennesimo campanello di allarme che ci fa dire che assolutamente questa giunta Marsilio, questo governo regionale è sideralmente distante dalle priorità e dai problemi delle nostre comunità.